Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto accessori fotocamera digitale Bluetoot Wireless Camera. Questo permette il controllo wireless della fotocamera fino a 70 m di distanza usando il tuo Galaxy S4 iPhone 4 Siphone 5 iPad iPad Mini iPod Talk. Funzioni, immediato rilascio, 2 secondo intervento ritardato, 10 secondi trip delay, funzione lunga, esposizione BLB, scatto continuo manuale o programmabile a diverse velocità. A tempo di primo trigger programmabile registrazione. A intervalli, da 1 a 9999 scatti fino a 99 ore 59 minuti e 59 secondi programmabili numero di scatti in modalità intervallo selezionabile, ad esempio, tutti HDR bracketing con fino a 9 fermate programmabili lampadina rampa cioè il numero di scatti, e la prima e l'ultima volta sono specificati. Il dispositivo raddoppia automaticamente a ogni scatto, la velocità dell'otturatore, la più breve tempo possibile, in questo caso è solo 1 a 10 di secondo, offrendo così un ampio margine per fotografia HDR. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.